La mia pensione è sempre quella, quando si trova una persona che ha una certa sensibilità e una certa potenzialità di fare, allora scappa alla mola e allora cerco di aiutare, a fin dove arrivo per oggi, può essere materiale o tempo, non sempre meno, però la mia pensione è sempre quella, perché sono veramente convinto che uno di noi, nella sua vita, può dare sempre. E allora perché è solo il tratto degli anziani? Quante esperienze di vita ci sono di 300 e 300 persone lì?